Allora, torniamo a Londra dai nostri ricercatori italiani, Emanuele Ferragina e Alessandro Zocco. Allora, Ferragina, a lei la parola. Sì, io volevo un attimo ampliare il discorso. Allora, innanzitutto è stato tutto molto interessante quello che abbiamo fatto fino a questo momento parlando di Europa. Però io vorrei un attimo ampliare il discorso al di fuori dell'Europa, perché secondo me la crisi, e la maniera in cui si esce dalla crisi è guardare all'economia mondo. Oggi viviamo in un mondo nel quale gli Stati Uniti vivono a debito strutturalmente sul fatto che la Cina acquista il loro debito. Cioè viviamo in un mondo nel quale i cinesi producono dei beni, li esportano negli Stati Uniti e vengono consumati dal consumatore americano, e tutto questo viene finanziato a debito. E per finanziare questo e continuare a far crescere la macchina americana, in un certo senso, e far continuare l'economia americana ad andare, si sono fatte delle politiche espansive molto forti da parte della Federal Reserve, che ha avuto una guida politica, ci sono state delle scelte politiche forti, e dall'altro si è fatta quella politica pazza per la casa e la possibilità di dare mutui e mutui su Prime, che conosciamo tutti e sappiamo bene com'è andata. Quindi quello che voglio dire è che oggi è vero che l'Europa si dibattia in una crisi fortissima, e che l'Europa cerca di risalvare la Grecia, e che Tremonti fa benissimo a parlare di Eurobond e di misure che siano europee. Però su questo penso che anche Tremonti possa essere d'accordo. Noi non usciamo dalla crisi se non discutiamo di economia reale, cioè se finalmente non si viene a ridefinire quello che è il rapporto fra la Cina e gli Stati Uniti, che non è un rapporto solamente finanziario, è un rapporto strettamente economico, cioè la Cina ha un'economia in crescita, in fortissima crescita rispetto a quella americana, e la storia del declino dell'economia americana si avverte, progressivamente è sempre più forte, è accelerato da quei processi della finanza che Tremonti ben descrive nel suo libro. Quindi il punto sul quale voglio tornare è che dobbiamo ragionare in maniera, un attimo anche al di fuori dell'Europa, per capire i problemi che ci attanagliano oggi. Secondo me dalla crisi non se ne esce, non se ne esce se non si ricrea un differente rapporto di forze tra il movimento dei capitali finanziari e dell'economia, tra l'Occidente e l'Asia, che sta crescendo in maniera esponenziale. Quando parlo di Asia appunto mi riferisco anche ad altri paesi che non sono solo in Asia, ma paesi emergenti come il Brasile e altri paesi che hanno una forte crescita rispetto al resto del mondo occidentale. Tremonti? Totalmente d'accordo, e per la verità il libro ha un capitolo sull'Europa, ma è sul mondo, e ha totalmente ragione da Oxford, lì noi stiamo rischiando per la prima volta... Guardi, la crisi come si è sviluppata è stata gestita in modo pacifico. In altri tempi squilibri, come abbiamo visto, avrebbero portato a protezionismo, a guerre. Questo è stato evitato per qualche anno, ma adesso ci troviamo davanti a un mondo che vede squilibri tra masse di capitali, masse di lavoro, crediti e debiti su scala quasi sconfinata. Quanto tempo ci vorrà per riuscire da questa crisi? Beh, intanto bisognerebbe che a qualcuno non venga in mente di fare la guerra. A volte c'è il raptus e la tendenza a fare l'inflazione o a fare la guerra. E le guerre sono certamente un fattore risolutore delle crisi economiche... C'è un rischio concreto a sua parere? Io penso e spero di no, però oggettivamente... Sa, c'è anche stata una fase in cui si pensava che una piccola guerra fosse sufficiente per far ripartire le economie o per vincere le elezioni. Io credo che i problemi siano... Quindi previsioni di Anile non se la sente di farne? E molto... Io sono sempre stato, nonostante tutto, ottimista, perché poi vedo anche le fasi... Quando parlavamo, quando parlavo al Partito Comunista Cinese con la Cina, la nostra, la mia posizione era i tavoli a due gambe non stanno in piedi, servono tre gambe, quindi serve l'Europa. E in fondo l'asse del mondo è ruotato dall'Atlantico verso il Pacifico. La posizione dell'Italia in Europa è molto importante. Siamo su quella striscia di... Comunque oggettivamente ha ragione il nostro ospite. Allora...